Io credo che uno degli elementi importanti della nostra azienda è capire il cliente, capire le esigenze, ma allo stesso tempo fornire un servizio. Il servizio per noi vuol dire regolarità, servizio a bordo, servizio in tutti i sensi, attenzione al cliente in tutte le fasi, nel momento in cui il cliente entra in un'agenzia di viaggio come per esempio Uvette American Express, così come quando ci conosce a bordo. Credo che sia quella che si chiama in inglese la consistency del prodotto, cioè essere coerenti con quello che si offre. Intanto bisogna conoscere bene il mercato e quindi capire bene dove posizionarci, dove ci sono opportunità. È chiaro che è un momento di grande difficoltà, però esistono ancora degli ambiti dove possiamo sfruttare i collegamenti, soprattutto sul network nazionale e questa è la nostra strategia nel posizionarci in maniera adeguata secondo i potenziali dei vari mercati. È un evento importante, tra l'altro capita in un momento anche di fare un po' il recap dell'anno e quindi è importante esserci perché poi capita proprio alla fine dell'anno, è un momento importante perché si permette di riconoscere, rivedere un po' di gente del settore e quindi è un evento importante da un punto di vista anche di networking a livello nazionale. Grazie. Grazie.